amici stracandidi buongiorno bentrovati buon sabato a tutti buon sabato un cazzo è brutto in questo periodo parlare di guerra perché sappiamo benissimo no che cosa comporta però è guerra è guerra a napoli adl forse contro spalletti spalletti contro i media i media contro spalletti i tifosi contro adl i tifosi contro spalletti ma i tifosi contro la stampa sicuramente sì perché se dobbiamo prendere una posizione almeno io io pino stracandido anzi iscrivetevi al canale mi raccomando la prendo e come perché nella conferenza stampa di ieri di spalletti una conferenza stampa enorme 45 minuti di conferenza stampa che ho avuto modo di vedere perché non mi sono voluto fidare di quanto fosse scritto perché già sapevo dove saremmo andati a finire e invece ho voluto vedere ho voluto sentire e spalletti per quanto mi riguarda ha pienamente ragione poi i due tre cinquecento coglioni che hanno messo lo striscione della panda che per me sono delle teste di cazzo immuni in mani e anche immuni perché tanto non pagheranno non sono non mi rappresentano e non possono rappresentarmi allora mettiamo i punti chiaro perché poi ieri no dopo la conferenza stampa i fenomeni da baraccone della stampa campana tutti quanti a sciorinare tutti a dire ma spalletti lo scudetto l'ha perso perché non ha messo mertens quell'altro è ma spalletti lo sa che ha gli stessi punti di gattuso e poi dice poi qualcun altro è colpa della stampa se il napoli ha perso in casa con empoli e spezia per me ve ne dovete andare tutti a fanculo perché voi avete il diritto e nessuno ve lo vuole togliere di dare la vostra opinione di giudicare di 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 anche mettere del pepe almeno però siate onesti ammettetelo che lo state facendo perché poi c'è anche qualcuno che già ma io però nelle gerarchie d'inizio campionato l'avevo detto che il napoli avrebbe dovuto lottare per lo scudetto quindi se poi non ha lottato fino alla fine è colpa tua spalletti calma il sangue freddo io parto dal dato è vero spalletti ha gli stessi punti di gattuso e finisce rischia di finire con gli stessi punti di gattuso o addirittura sotto se non dovesse vincere entrambe le partite che mancano da qui alla fine perfetto non fa una piega ma gattuso quanto è arrivato gattuso che rapporto aveva con la squadra la società i tifosi bisogna anche essere onesti in questo questa squadra quest'anno ci ha fatto sognare questa squadra per lunghi tratti ci ha fatto sognare è vero è vero probabilmente non siamo stati forti a tal punto da poter lottare contro due squadre per quanto forti ma non più forti di noi c'è rammarico certo c'è rammarico ma questa squadra ha ottenuto un risultato impensabile per i più a inizio stagione e bisogna darne atto e comunque a volte sia stampa che una parte di tifosi vi meritereste il napoli in c ve lo meritereste perché c'è gente che riesce a contestare a creare un clima di merda quando la squadra arriva terza l'anno scorso quando c'era napoli verona tutti quanti vi siete limitati a dire ci devono spiegare che cosa è successo in napoli verona che cosa sarà mai successo in napoli verona non ce lo spiegano è lì che dovevate striscioni cori insulti farvi trovare fuori dal maradona non avete fatto niente quest'anno con una squadra terza voi pretendevate lo scudetto e adesso contestate ma io davvero non vi capisco io non vi capisco non capisco parte dei tifosi non capisco la stampa perché la stampa è tutta allineata e ha già trovato il responsabile luciano spalletti io non prevedo il futuro non lo faccio non sono in grado e non lo può fare nessuno cosa succederà l'anno prossimo ci sono quelli che dicono è come come a roma ha fatto la prima stagione spettacolare poi alla seconda stagione alla terza giornata esonerata potrebbe essere tutto può succedere quando arrivò spalletti e adesso dopo i problemi con totti a roma i cardi a milano perché poi dopo parliamo anche di cardi perché qua poi abbiamo raggiunto l'apoteosi con i cardi e avrà problemi anche col capitano in signe vedrai spaccherà l'ambiente si metterà contro il capitano capitano che tra l'altro in scadezza sai sarà un sarà un disastro niente niente nemmeno ieri dopo che ha detto è stato comunque un orgoglio allenare in signe è stato bello lui è disponibile un professionista però ci sono delle scelte società nemmeno quello vi è bastato e va bene i cardi ieri sera dopo la conferenza stampa di spalletti ma porca puttana ma come anche fate a riportarla una notizia del genere se tutto è confermato no che spalletti rimarrà ma come potete ipotizzare che il napoli sia una delle squadre che andando sui cardi nel caso in cui osimen dovesse andare via ma come cazzo vi viene in mente dopo quello che è successo a milano tra i cardi e spalletti però alcuni no per per celare questa questa stronzata micidiale cosa hanno detto ecco se se de laurenti spensa i cardi per sostituire osimene perché già salutato sballetti ma andatevene a fare in culo andatevene a fare tutto spacco adesso che banda di imbecilli in questa città ce ne sono tanti troppi per i miei gusti troppi ne sento di ogni colore invece di godervi un campionato bello condotto in maniera importante in cui la squadra ha saputo superare delle difficoltà certo pecchiamo di personalità non abbiamo giocatori trascinanti ma non li abbiamo mai avuti o quando li abbiamo avuti li abbiamo bollati come vecchi tipo al biol ma se benedetto mio non voglio dire se c'è qualcuno che deve essere non dico preso di mira ma criticato è il signore che sta in alto non quello altissimo quello che sta in alto nelle gerarchie della ssc napoli i problemi stanno lì ma voi ve la prendete con spalletti perché spalletti ci ha fatto perdere lo scudetto quando voi sapete benissimo e parlo ad ognuno della stampa questo video non arriverà alla stampa napoletana perché è difficile che ci arrivi ma magari se soltanto uno solo di voi lo guardano e mi guarda negli occhi siate onesti a voi conviene di più mettiamo le cose in chiaro conviene di più spalare merda su spalletti perché spalare merda su de laurentis per voi può voler significare problemi e quando ve lo danno il pass per andare alle conferenze stampa del napoli e quando ve lo danno più il pass per andare a dimaro e quando ve lo danno più il pass per andare a castel di sangro e quando ve lo danno più il pass per la tribuna stampa in campionato e quando ve lo danno più il pass per la tribuna stampa in coppa italia e quando ve lo danno più il pass per la tribuna stampa in champions league siate onesti fate i seri se non volete criticare adl perché vi conviene evitate anche di criticare chi probabilmente non va criticato oggi ma magari tra qualche mese quando anche secondo le vostre previsioni farà un buco nell'acqua e verrà esonerato e allora in quelle settimane scaricate tutta la merda di cui siete capaci ma adesso ci lasciate stare ci fate godere il terzo posto che comunque è un grande obiettivo e forse pensa un po arriviamo anche davanti alla juventus e non succede da dieci anni e passa cari signori quindi vi abbraccio voi e tutti gli iscritti al canale e anche i passanti e ci vediamo domani pomeriggio dopo la partita del napoli per il finale per commentare un po questa partita per commentare anche magari il tributo dello stadio maradona a chi ha difeso questa maglia e oggi se ne va lorenzo insigne amici un abbraccio e alla prossima